Benvenuto da Mariner 3S. In questo video vi mostriamo come collegare l'asta telescopica all'Oscar. Preparare l'Oscar, l'asta telescopica e la chiave Torx in dotazione. Rimuovere la pellicola protettiva sull'asta telescopica senza usare coltello o forbici. Collegare il cavo all'Oscar prima di rimuovere il nastro in velcro sull'asta. Questo assicura che il cavo a spirale non venga trascinato nell'asta. Assicurarsi che i punti bianchi dei due connettori a spina siano uno sopra l'altro. Ora serrare saldamente a mano il collegamento a vite per evitare l'ingresso di acqua. Non utilizzare mai uno strumento come le pinze a tale scopo. Rimuovere il velcro e introdurre il cavo nell'asta. Svitare le due viti sulla flangia di collegamento dell'Oscar. guidare l'asta telescopica sopra la flangia di collegamento e posizionare i fori uno sopra l'altro. Fissare ora l'asta con le due viti. Stringere le viti solo leggermente. Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito web o nelle istruzioni per l'uso.